E ci dia qualche indicazione sempre nella fase 2, passiamo un po' alla pratica, anche quella più spiccia. E' sicuro che ci si contagia toccando una superficie infetta? Se uno ci ha starnutito sopra proprio tanto, sì, e poi dopo ci mette il dito e poi se lo mette in un occhio se lo prende. Una serie di conseguenze. Cosa deve diventare normale per poter convivere col Covid? La consapevolezza che dobbiamo conviverci e la consapevolezza che lui non guarda in faccia a nessuno. E quindi ogni stupidaggine che noi o i nostri cari o i nostri nonni fanno potrebbe rivelarsi, non voglio dire fatale, ma un costo non necessario. Parliamo soltanto di costo sul Servizio Sanitario Nazionale. Bisogna che le persone stiano fuori dagli ospedali e quindi che siano sane, perché se no gli ospedali non ce la fanno a riprendere il ritmo normale di lavoro. Riaprono i parchi giochi, ci si possono portare i bambini? Certo, ci si fanno giocare senza fare le ammucchiate di rugby. Musei, piscine, spiagge, grandi centri commerciali. Dove è meglio andare e dove è meglio non andare? All'aperto, io direi all'aperto, dentro il meno possibile. Adesso intanto arriviamo a giugno e poi dopo vedremo il problema dei centri commerciali, che ovviamente sappiamo sono molto frequentati e sono molto frequentati sulle panchine dentro i centri commerciali. Quindi bisognerà pensarci, perché sappiamo che poi diventano degli ambienti molto affollati. Invece il virus bisogna cercare, anche se c'è il rischio di portarlo, di farlo disperdere, non di farlo entrare in contatto con altre persone. In ascensore bisogna temere? Facciamo le scale. E' meglio fare le scale. Aereo, treno preoccupano soprattutto per l'aria condizionata, ma l'aria condizionata, si legge, basta non stare proprio sotto al getto. Oppure è l'ambiente che diventa rischioso se c'è l'aria condizionata? No, allora, sì, questo è corretto. Diciamo sono determinati impianti che hanno un getto di aria che qualora fosse contaminato può infettare le persone che stanno direttamente sotto. Io ricordo che il virus non ha le ali e quindi bisogna essere veramente nel posto giusto. Però non è una cosa che possiamo escludere. E purtroppo alcuni locali, alcune realtà, hanno degli impianti di condizionamento che possono essere un po' obsoleti e magari andrebbero rivisti. In piscina si rischia? No, direi proprio di no. Cioè, nella piscina c'è il cloro o il sale e cerchiamo di disinfettare roba molto più robusta del coronavirus.